Sempre più richiesto soprattutto in questo periodo natalizio il servizio di stampa fotografie, lo sanno bene qui da HelioGraph Copy Center di Pesaro con 40 anni di esperienza che proprio per venire incontro a questa esigenza ha aggiunto un nuovo dispositivo innovativo, un dispositivo touch che consente una sorta di self service al cliente. Sì esatto, la richiesta delle foto è sempre maggiore quindi il cliente in autonomia o con il nostro aiuto può venire qui, seguire le istruzioni del monitor, toccare il monitor e andare in stampa attraverso il proprio dispositivo che può essere il telefono oppure un supporto di memoria USB, scegliere le foto nella galleria e andare direttamente a scegliere il formato e stampare. Tutti tendiamo ad accumulare fotografie nel telefono, poi non si va mai a quel passo successivo della stampa, questo magari è un modo ulteriore per invogliare verso il mettere su carta, su una foto professionale, questo tipo di ricordi che abbiamo nei nostri dispositivi. Benissimo, possiamo quindi stampare la foto nel formato che vogliamo, scegliere anche addirittura una cornice e tornare a casa con un bel pensiero, così ho scaricato le foto, le ho messe su carta e poi posso appenderle o regalarle come dono ad un amico. Rimangono i servizi tradizionali, si possono inviare foto da stampare via mail, via whatsapp, questo però è davvero un servizio nuovissimo appena installato. Appena installato, a circa una settimana nel nostro negozio, quindi attraverso whatsapp, email, ma addirittura attraverso l'app che abbiamo presentato alla volta precedente, possiamo stampare noi per voi il vostro pacchetto di foto, che siano una o 50 o il quantitativo che volete.